ciao ho preso il primo singolo album dei new east finalmente sono riuscita a trovarlo perché ha esaurito tutte le parti questo è il davanti questo è il retro questo è il cd è sempre fantastico e veloce che mi piacciono sempre un sacco metti a fuoco no no metto a fuoco momento ok oddio qui quando ven sembrava molto veramente e la madonna uguale così che fashion piccolo piccolo piccoluccio che carino C'è una prima audizione, vabbè. Mignon, patatino. Wow. Beagle. Ay, beagle. Ah bebe. Oot, a pecai smart hand-in, a bean. Vabbè. come erano giovi giovincielli ok finalmente sei nella mia maniera ciao